Buon pomeriggio dallo Sherwood Festival 2022, ho il piacere e l'onore di avere Ider Ozer in mia compagnia qui presso lo stand Sherwood Media e Produzioni. Bentornati a Sherwood Festival innanzitutto e parto subito con la prima domanda. Voi siete stati qua all'ultima edizione grossa di Sherwood Festival 2019, era il tour dei 20 anni della nostra età, sono passati tre anni, c'è stata una pandemia di mezzo, siete di nuovo qui a Sherwood Festival, com'è tornare sul palco e tornare in particolare a Sherwood Festival oggi e quest'estate in generale? Ok, allora innanzitutto ciao a tutti, io sono Seville Ider Ozer, sono in compagnia di Spazza, qui siamo due su quattro, gli altri sono stati bloccati in backstage, allora tornare a Sherwood è sempre una grande emozione per noi, noi siamo di Vicenza, quindi ci abbiamo visto durante tanti anni, quindi ogni volta che siamo ospiti di questo festival fantastico è sempre una grande gioia. Nel 2019 festeggiamo, come hai detto giustamente tu, i 20 anni dell'uscita del nostro album alla nostra età, un nostro album più fortunati e ci ricordiamo benissimo quella data perché penso che sia stata la data più calda in assoluto a cui abbiamo la data più calda suonato, penso che c'erano 42 gradi all'ombra ed era veramente difficile, anche perché abbiamo suonato sotto la tenda ed è stato veramente complicato, c'era tantissima gente, un poco incredibile ed è stata una serata veramente strepitosa, quindi tornare a Sherwood è sempre un piacere, è sempre un onore e siamo qui, ancora una volta, molto felici di esserci. Allora, parlavamo proprio dei 20 anni di alla nostra età, sono passati 20 anni da quando avete, anzi 23 ormai da quando avete scritto alla nostra età, già 23 anni fa dicevate noi alla nostra età suoniamo punk, sono passati 23 anni suonate ancora punk, quanto è importante quell'album, quella canzone e soprattutto quanto ancora credete in quel testo. Allora, chiaramente come dicevo prima è stato uno dei nostri album più fortunati, quindi siamo legati tantissimo a quel disco anche perché è stato il disco della svolta, dopo l'uscita della nostra età tutto è cambiato per Ida Rozza, nel senso che era esploso il punk rock come genere quasi mainstream in quel periodo lì, quindi noi ci siamo trovati in mezzo a questa calca pazzesca, diciamo che eravamo nel posto giusto, nel momento giusto e quindi appunto importantissimo per noi. Eravamo già un po' avanti con gli anni noi quando è successo tutto questo e di conseguenza scrivere il testo della nostra età coincideva con quello che facevano i nostri coetanei all'epoca, nel senso che mentre noi andavamo in tournée lunghissime di 30-40 date in giro per il mondo, gli altri erano già a casa, si sposavano, avevano i figli eccetera eccetera e ci davano un po' dei pazzi a noi che invece inseguiamo ancora il nostro sogno e quindi è nata così la canzone che a distanza di 23 anni, come dicevi prima tu, è ancora assolutamente attuale, anzi forse è ancora più attuale perché mi sembra che le nuove generazioni invecchino ancora prima adesso, è tutto totalmente frenetico, totalmente veloce per loro che non c'è neanche il tempo di vivere bene l'adolescenza, di vivere bene la gioventù, si viene catapultati quasi immediatamente nel mondo reale perdendo forse il senso appunto dei passaggi di maturare nel modo giusto, quindi una canzone che a distanza di tanti anni è ancora incredibilmente attuale, potrebbe essere scritta tranquillamente da una band del 2022, o no? Esatto, sì sì. Quindi non vi siete laureati, non avete aperto un mutuo. Il bello è che noi alla fin fine poi siamo diventati nel canzone perché abbiamo il mutuo, chi più di uno, abbiamo le mogli, abbiamo i debiti, abbiamo il lavoro, però comunque facciamo ancora punk, quindi siamo rimasti... Però intanto quella parte lì, suoniamo ancora punk, c'è ancora quella cosa importantissima. Diciamo che al di là di tutto comunque il filo conduttore è il punk, siamo ancora più una domanda invece vi faccio sulla... per quanto riguarda il vostro percorso musicale che c'è stato quasi 30 anni di carriera, circa 30 anni di carriera, riguardo un pochettino al cambiamento che avete avuto nel corso di questi 30 anni, quindi magari testi un po' più spensierati, un po' più alla screen singuizel anche come suono a livello musicale, qualcosa di invece, mi vien da dire, da mondo perfetto in poi, qualcosa di sempre più... contesti sempre più orientati magari al sociale, al politico e anche una musica un pochettino più aggressiva rispetto a quella che era stata probabilmente quella di De Rozer prima. Qual è stata l'esigenza per questo cambiamento nel corso di questi ultimi anni, ultimi 20 in realtà perché mondo perfetto del 2000 se non ricordo male. Ma allora, secondo me è una semplice evoluzione naturale, non c'è nessuna ricerca, nessuna cosa in merito. Trovo strano quando un artista come me che ha passato abbondantemente i 50 anni scrive ancora gli stessi testi che scriveva a 17 o a 18, no? Perché qualcosa nella tua vita sicuramente è cambiato e questo si riflette giustamente nei testi di De Rozer, non ho più 20 anni, non ho più 30, non ho più neanche purtroppo 40 e quindi i testi cambiano, cambiano con la mia vita, con quello che vedo intorno. Come ben sai ogni canzone di De Rozer è una canzone sempre personale, non c'è niente di inventato, le contano sempre qualche storia, c'è sempre una punta di verità in quello che diciamo e le mie esperienze da ventenne non hanno quelle di trentenne, non sono quelle di quarantenne, non sono quelle di cinquantenne, quindi l'evoluzione è semplicemente data dall'età, ogni canzone di De Rozer è un'istantanea del momento in cui viene scritta, no? Quindi se è scritta nel 92, uno si riconosce con il 92, se è scritta nel 2000, uno si riconosce nel 2000 e quelle scritte nel 2020, nel 2017 che è l'ultimo album, chiaramente rispecchiano quel periodo storico, quindi tutto qua lo vedo semplicemente come un'evoluzione naturale, niente di particolare, nessuna ricerca, non so, no Andrea? No, 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 di fatto rispecchia il tempo che uno vive, insomma, quindi è inutile scrivere canzoni da ragazzini solo per magari avere un po' più di pubblico quando siamo dei vecchi con i capelli bianchi e con i problemi che hanno tutte le persone della nostra età. Ecco, magari a livello di produzione mi sembra che siamo cresciuti molto, questo grazie anche ad Andrea che ha fatto il produttore dell'ultimo disco, ha anche arrangiato alcune canzoni, secondo me fece un lavoro veramente strepitoso, quindi suoni molto belli, molto attuali, molto moderni, come giusto che sia, quindi come dicevo prima, un'evoluzione, semplicemente un'evoluzione naturale delle cose, niente di più, niente di meno. Quindi visto che era specchio degli anni in cui le scrivevate, la Beyond in 500, sul fine anni 90, la vedevate per davvero per strada. Esatto, assolutamente sì. Allora, guarda, l'ultima domanda, vi chiedo proprio l'ultima cosa, voi siete state una, siete tuttora una delle band punk più influenti del panorama italiano e il punk per eccellenza è underground, a parte fine anni 90 che è diventato un po' mainstream, proprio grazie a voi, Pancreas e così via, almeno per quanto riguarda l'Italia, comunque è una musica che viene dall'underground fondamentalmente, quello dell'essere indipendenti era un po' un vanto per le band punk. Allora adesso vi chiedo, nel 2022 con Spotify, i social, la musica è raggiungibile in tutti i modi, cosa vuol dire essere indipendenti per i The Roadster? Allora, innanzitutto essere indipendenti vuol dire essere sempre fedeli a se stessi, riuscire a avere la libertà di poter fare sempre quello che si vuole, senza dover mai scendere a compromessi, senza dover mai rivedere le proprie posizioni, quindi questa è la cosa che mi preme nell'essere indipendenti. Farlo nel 2022 con tutte queste cose è più facile sotto alcuni punti di vista, è molto più difficile sotto altri punti di vista. Per esempio è molto più facile farsi conoscere, adesso uno che fa il video giusto, lo carica nel posto giusto su YouTube, sei fortunato, nel giro di poco tempo diventa un influencer, fa milioni di visualizzazioni, cose che una volta erano impensabili, no? E diventa improvvisamente da oggi a domani diventa una persona famosa. È vero che così come diventi famoso, vieni anche dimenticato, altrettanto velocemente. Per restare al passo con i tempi devi sviluppare tanti social, noi abbiamo per fortuna la Deborah che è qui davanti, che è il nostro social manager, che ci dà una mano importantissima perché ci sono tantissime piattaforme, le devi seguire tutte e ti dico che noi tante volte stiamo sorpresi perché non riusciamo a rispondere a tutti i messaggi come vorremmo. Una volta ti arrivavano via posta, era molto più semplice, le mettevi lì, ogni tanto rispondevi. Adesso è talmente massivo lo scambio tra noi e chi ci segue che molto spesso diventa talmente tanto impersonale, fai fatica a rispondere come vorresti, ad essere efficace come vorresti. Quindi più facile sotto un punto di vista, quello della notorietà, ma molto più difficile seguirlo bene perché hai una mole impressionante di cose da fare, di step da fare, no? Pensi a caricare i video, filtrarli, eccetera, eccetera, diventa veramente un lavoro incredibile. Noi lo facevamo in modo indipendente, naturalmente perché collaboriamo con Inbox, che è un'etichetta indipendente, questo ci permette di essere liberi, di fare quello che vogliamo, ci confrontiamo sempre tra di noi per fare le cose, però è complicato, cioè tutta questa tecnologia, spesso la tecnologia anziché semplificare la vita, in alcuni casi la complica e quindi stare al passo con tutti questi social, con tutte queste piattaforme, Spotify, eccetera, eccetera, diventa molto complicato. Anche altro è diventato un lavoro in più che uno deve fare, mentre prima la stava suonando bene, fare i concerti, fare i dischi, adesso devi occuparti anche tutta della parte social, quindi farti le foto, farti i selfie, farti il post e magari non tutti, hai capito, sono bravi, sono così e tante volte vince chi appunto comunica meglio sui social che magari dal punto di vista musicale, questa forse secondo me è un po' la critica che posso fare questo modo di fare musica adesso. Fantastico, io ringrazio i The Roder per essere stati qua con noi, per averci concesso il loro tempo e ci vediamo sotto il palco, cioè voi sopra e io sotto il palco. Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti, ci vediamo stasera e sarà una grande festa. Grazie amici, grazie a tutti, ciao ciao. Grazie mille.